Ciao e benvenuti sono Leferri e oggi proviamo Dusk Diver, partiamo subito con il gioco Sì vabbè questo qua ha fatto la prova di prima Che cos'è Dusk Diver? Dusk Diver è un action hack e slash in terza persona dallo stile anime Il gioco purtroppo è solo in inglese con il parlato in cinese oppure in giapponese Io ho messo in giapponese perché è quello con cui ho più confidenza Perché sono abituato a guardare gli anime solitamente Purtroppo allora io capirò quello che c'è scritto Ma tradurre in tempo reale a voi e intrattenere e dire cose simpatiche, recensire eccetera eccetera È molto molto difficile per cui non credo che ci riuscirò ragazzi Mi dispiace vorrei farlo ma non credo che ci riuscirò Vabbè questo qua qua sono anche a tradurre Quindi ce l'abbiamo fatta in tempo? Sì, prendiamo l'ascensore su e vediamo se siamo capaci di trovare quel ragazzino fastidioso Ecco, basta, quasi lì si ferma la mia traduzione ragazzi Allora, graficamente è molto molto carino Eeeh Eh vabbè Agli umani mortali I dei risiedono in un realm sacro chiamato Kunlun Le bestie del caos sono nate nella dimensione del caos Agli umani i realm dei dei e del caos sono distanti ma simili Simending, l'intersezione dell'antico e del moderno Dove storia e design sono interlacciati Rumorosi e clamorosi Pieni di Vigore senza fine Ma che cazzo stanno dicendo? Per quella ragione Gli dei e i caos sono attratti Man mano che il tempo va avanti l'energia Delle differenti dimensioni Converge Eeeh vabbè ragazzi, non riesco a giocare a tradurre dai Basta Poi facciamo un po' di combo a cazzo Ecco, quello lì è un alleato di supporto che penso sia venuto fuori con cerchio Vediamo, eh sì Con cerchio viene fuori quello lì Questo poi è l'attacco pesante Attacco normale Con R1 Figata cazzo Con L1 Niente Ah così c'è il dash Eh ma quante volte posso farlo sta roba qua? Ma è una figata Wow Bello Molto carino da giocare, eh Anche il gameplay è bello fluido, bello dinamico È rifinito bene direi La ragazza romperà le barriere delle dimensioni E racconterà la storia del non so cosa Ovviamente ragazzi, sì 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 qua per la prima volta Valutate sempre il like al video Per far vedere gli sviluppatori che il gioco vi piace Ma soprattutto valutate anche il like al canale L'iscrizione al canale più che altro Perché il vostro supporto è fondamentale Nonché molto molto apprezzato Altrimenti senza il vostro supporto io non farei queste cose, eh Non riuscirai a farle Non riuscirai a migliorarle Non riuscirai a supportarle, ecco Se il gioco mi piace particolarmente È probabile che ci faccia un walkthrough Eh direttamente Perché fatemelo capire nel caso Ditemelo senza troppi problemi Anzi Siete proprio Specifici scrivete Non si sa mai E basta Comunque è probabile che lo faccia Se il walkthrough Perché mi piace Sembra carino come gioco Ah Yusha è mancato questa fermata ancora Eh senti Mentre miate tutto il tempo Ragazza ordinaria My daily adventure Telefono squilla Pronto? Dove sei Yumo? È esattamente la stessa cosa Che ti volevo chiedere Ho fame Quindi sto comprando Del pollo fritto Al ristorante All'uscita 6 Io pensavo che ci trovassimo All'uscita 6 Vabbè Vabbè Dimenticalo Ti cercherò Non Gironzolare Qua è il senso ragazzi Andiamo a trovare Yusha Allora Quando controlli Yumo Freely Usa R per ruotare la telecamera Ah eccola lì Ah eccola lì Appunto La dovrei rimproverare Usa L per muovere Yumo La velocità Diventerà No aumenterà Dopo che correte da un po' Insomma più correte Più va veloce Ecco questo qua il senso Usando R2 Potete istantaneamente Portare la velocità al massimo Così appunto Vuoi un pezzo di pollo? Goofy girl Vabbè Nel Sì Vabbè E Vabbè Vabbè Nel Dai Seguiamo Yusha Tra l'altro è anche molto diligente Rispetto proprio alle segnaletiche Allora Dall'altra parte il ristorante Eh quando c'è del cibo in gioco è molto veloce Va Do cazzo è andata Ah ok via per di qua Mamma mia ma è veramente veloce Fortuna che c'è la mappa va Ok Piccolo cieco Smettila di girare in giro senza uno scopo Hai un cattivo senso della direzione Lo sai questo vero L'atmosfera è appena cambiata Quanto pare si Adesso meniamo le mani C'è qualcosa che non va Magari dobbiamo tornare verso la folla E qua Cominciano i guai ragazzi Secondo me Task diver Molto carino Molto carino Molto carino Sì Poi là Inquietante la cosa Non c'è più nessuno Questo sì che è strano L'uscita sai è qui vero Aspetta Yomo cammini così veloce Sì 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 Che è successo Il primo cattivone Cazzo è anche bello grande Ui là No Cazzo è anche bello grande Cazzo è anche bello grande Cazzo è anche bello grande Che bello che è Che bello che è No Non contano quelli Il combattimento non contano Let's try Allora Attacco leggero Quadrato È veloce Nonostante sia debole Massima combo Cinque volte Attacco potente È più facile E no È più potente Scusate Nonostante sia più lento Usalo dopo un attacco leggero E cambierà In base al numero di attacchi leggeri Che avete fatto Sì praticamente le combo Giustamente Eccolo qua Una E questo poi vediamo con tre Perfetto Bene I tuoi poteri sono finiti a Yumo Eh bene Ci tocca Parlato sei anche Una super saiyan god Per cui va bene così dai Sì non è proprio così È che guardando la tv Non diventi bravo Comunque va bene Siamo secondati Da bestia del caos Prepariamoci a combattere Boss La voce di una donna Eh sì Ah no Non ti puoi affidare a me Ti tocca lì Mi spiace A gangster Dai Allora SP meter Quando Yumo Colpisce i nemici L'energia Del nemico Sarà assorbita Sarà assorbita Punto Consumata SP per gli attacchi Evocazione Attacchi e vocazione Usa cerchio Per gli attacchi e vocazione Spendi un punto Per usare appunto Un attacco e vocazione Non possono essere usati A volontà Ma è decisamente Più forte di Yumo Usare un attacco e vocazione Dopo un attacco pesante E cambierà Vabbè Cambia in base al numero Di attacchi precedenti Pesanti Sì praticamente È una combo Cazzo Questo qua è il concetto Ragazzi Mi far fuglio dopo Con le cose Però avete capito Usate questa tecnica Per distruggere i nemici Bene Quindi se io faccio Ad esempio Triangolo E cerchio Ecco questa roba qua Ok Se io faccio Due triangoli Oppure Un quadrato Quadrato Triangolo Cosa che non ho fatto prima Viene fuori Un'altra mosso ancora Per cui ci sono Tre tipi di combinazioni Quadrato Che porta Triangolo E triangolo Che porta A cerchio E in base a Quanti quadrati Permete C'è un determinato Triangolo Che poi porta Ad un determinato Cerchio In base a Quanti quadrati Premete C'è appunto Una tot Numero di triangoli Sì E quindi Una nuova mossa Diversa alla fine Avete capito Mi sono spiegato Un po' da culo Però il concetto L'avete capito Dai Ok Chiamalo Leo No gangster Poverino Non vedi che bello No cos'è Che è un leoncino Infiammato È stupendo Ok 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 No, non siamo sorelle Siamo solo amiche molto speciali No, molto vicine Dai, dobbiamo portare Yusha all'ospedale Dai Facciamo in fretta Allora, R2 per fare il doge Per schivare Ah, schivando giusto in tempo E rallentiamo il tempo Vero Bene Perfetto Bene In coma Mamma mia, poverina Sì Ah, sono nella linea, sono nella parallela Ah, sono nella linea Sì Sì C'è questo? 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 C'è? C'è questo? C'è questo? C'è questo? C'è questo? Sì, ma ragazzi, si può salvare qua in qualche modo? Boh, vabbè, eh... Vabbè, ok, andiamo avanti un altro po'. Corri! Dov'è il negozio di convenienze? Ah, dobbiamo andare dal boss, giustamente. Però l'altro è molto carina la mappa. È strano come si vedono... Perché? Perché questa scelta qua? È stranissima, cazzo. Sì, sì, hai ragione, andiamo subito, dai. Che strana questa scelta qua di far comparire i personaggi quando si va vicino. Mai vista, ma è originale. Eccolo qua, c'è anche lei sulla cosa, sulla vetrina. Ok. Restocking and sistemare, eh. Organizzare gli scaffali. Yes! Ah, mi devo anche mettere il coso. Mmm, la divisa? Va bene. Qua c'è niente? No. The dressing room, dai. Vestiamoci. Ecco. Avete presente quel famoso negozio di scarpe dove voi entrate e dopo mezzo metro vi dicono ha scelto qualcosa? La posso aiutare? Ecco. Eh, siamo vestiti così noi. Organizzare lo scaffale. Lo scaffale. Tidy up? Non so cosa voglio dire tidy up. Sarà pulire credo, non lo so. Le scatole di Gattone sono affilate. Vuoi vedere che adesso moriamo facendo sto lavoro? Ok. Un sacco di marche. Eh, a quanto pare sì. Simpatica come cosa che oltre al picchiare e combattere ci sono anche queste parti qua di lavoro effettivamente. Tutti gli effetti. Tutte le bevande sono finite. Male. Vabbè, ok. La nuova acqua minerale sta avvenendo molto velocemente. Bello, interessante. Eh, la barretta di cioccolato che hai visto sa bucita sembra deliziosa. Eh, sì. Parla to the boss. Ah, possiamo timbrare per andare via. Benissimo. E la parte del lavoro al negozio di convenienza è a posto. Adesso andiamo a picchiare. Penso. Ma più duro di quanto pensassi, ma no, dai. Abbiamo appena iniziato. Poteri, poteri. Poteri. Poteri, poteri. Poteri. bene sono molto sospetti eh ah finalmente possiamo salvare perfetto allora ragazzi come vi dicevo like, iscrizione e campanella noi adesso andiamo a è questo qua il negozio? sì andiamo a salvare chiudiamo la puntata vi piacerebbe vedere un walkthrough di questo gioco? a me sì perché mi pare molto molto carina devo essere sincero salviamo no saved data sì va bene qua io ho confermato è un po' lento però bene bene ragazzi questo era tutto spero vi è piaciuto grazie e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti